Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Super Mario RPG Nello scorso video sono entrato nel castello di Bowser e sono arrivato davanti a queste 6 porte Bisogna completarne 4 per poter avanzare Io le voglio fare tutte e 6, me ne mancano 3 e le farò in questo episodio 2 porte conducono alle lotte, altre 2 conducono a dei quiz e altre 2 conducono a delle sfide Sfide di abilità, di azione Quindi vediamo la 4 che dovrebbe essere un'altra sfida di azione Ok Non lo posso prendere questo? Come lo prendo questo? Scusami Ok Ok Questo non so come prenderlo, se non cadendo nella lava Ok, ha preso comunque Va bene, preso, ok Questa è piuttosto semplice a dire il vero Ok Ah, aiuto! No, da capo? Ah, da qui, meno male Ok, vabbè, le monete posso capire che devo prenderle, però Insomma Posso anche un attimino lasciare Ma no, ma fermati! Perché non ha saltato? Ma perché? Stai buono! Ok, allora Accidenti Ok, allora Vediamo un po' Devo prendere queste che si muove Perché a un certo punto si fermano Ok No, ma si è fermata prima Ma insomma Ok Allora Aspetta, aspetta Con calma Facciamo tutto con calma Ah, ecco qua Allora Ma per favore! Ma insomma Tridimensionalità Il cavolo sto gioco, eh Allora Ok Eh, l'altro lo lascio Amici miei Non posso farci niente Tentative rimasti Eh, quello è il problema Oddio, santissimo Ma che cosa succede qui ora? Ah, sei tu, sei? Sei tu, sei? Va, te ne va Che è meglio Eh, allora Oh Chi è qua? Super Sberla Ah, ok Perché Super Sberla? Per pitch 200 di attacco Wow Ok Eh? Ma, ah Quindi proprio Basta che ne faccio 4 in tutto Ah, va bene Quindi non posso fare Gli altri Lo salvo qui Salvo, dai Adora Salvo qui Ora Ho ricaricato il salvataggio Quindi andiamo a fare la quinta Che sono solo lotte Quindi Ha senso mostrarvi le lotte Se c'è qualche nemico interessante Magari No, non serve Mostrarvi le immagini Ah, ma quindi Proprio Ho capito Praticamente Anche prendi Le altre porte Ti fa Le stesse domande Ah Che sono sempre le stesse Sì, dovrei andare Dovrei fare Quelle che ho già fatto Per poi fare le altre Che sono diverse Credo Nel caso Metto un video Metto un appunto Non lo so Copacadabra Allora era diretto qui Questo è il castello Di Fabromagno Non sono ammessi Intrusi Ma sei un nemico minore Ma ti distruggo Con supernova Gino Let's go Magari è debolissimo Io lo sto Overkillando O forse no Magari è resistente Dai 1194 Non male La paura È so punto debole Va bene Allora andiamo Con Bowser Eccolo qua Terrore Cosa? Un uovo? Oh 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 Vediamo un po' Ok Ancora nulla Vabbè comunque sconfitta Mi sa ora Dopo questo attacco Ok bene Congelamento Grazie eh Serviva proprio congelamento Bowser Spunto Dele tale Ma niente Attacchiamo normale Un altro Devo Una volta che ci sta Ah Un drago Carino Dragoshi Bello Ma questo attacca Dragoshi Quanto pare Vai 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 È così Grande È andato Andiamo qua Quanti punti esperienza ci dà Spero un centello Neanche a pagarlo Allora Quel che ti meriti Ah Ti be Quel che ti meriti Sembra uno scrigno diverso Le monete dentro questo scrigno magico Non finiranno mai Ah Quante ne ho ora per curiosità 1544 Posso stare qui tutto il giorno Sono a 2 mila Oh cielo Oh cielo È lunga È lunga la strada È davvero lunga Che cosa vuoi Vuoi morire Vuoi che muoro C'è ancora in giro Ci si vede Amico Allora siamo amici Vabbè 1600 Dai Andiamo avanti Oh cielo Che succede I twomp Ok Ah 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 Gli stavo proprio sotto Oh cavoli Ma qua non ci sono più già Tutti finiti già Ma che bisogna fare Con questi tuomparelli Ah ma È la stessa strada di prima Ah 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 Chi è là Ah 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 Lui usa lo Yai Bamurai Mi dispiace Ah Ok Ehm Pressa Koopa Buono Vai Supernova Gino Supernova Vediamo quanto gli fa questo Ok buono Oh cavoli velocissimo è stato stavolta Enna fammi rissare Mario Su restati dai Ecco bravo E se gli salto in testa Dipende però quante volte riesco a farlo Perché purtroppo il timing qui mi rimane un po' difficile Non so perché Io penso a rifarlo bene Ma in realtà non lo faccio bene E poi c'è anche la sfida Di un mostro a Mostroburgo Maia Eh vabbè però Allora Senti Tato Tu però devi un attimino regolarti eh Mando mellow Mmm Stella cadente Ok vediamo un po' quanto è il fondo qua Chi sa Salta sempre più in alto poi la stella Ma almeno mi sembra Forse va anche più veloce 300 Restiamo Mario Lo cambio No cambio No non posso cambiare Ma un attacco normale quanto gli fa? Ah Insomma Che fa? Ah diventa blu quindi cambia tipo attributo Ah capito Però favolo non male questo Ah Questo è assurdo Non posso farmi sconfiggere da questi Non lo permetterò Non cadrò in battaglia Mi sta venendo un colpo Non voglio la vostra pietà Io sono un soldato Sono pronto a morire Fammi fare un bel tuffo pendelio Aio Ci si vede schiappe Bamurai Oh povero Bamurai Tranquillo È solo un piccolo salto Non ti farai male Va bene Mario Vi porterà in cima Dobbiamo arrivare a punto Concordato alla svelta Tenetemi forte Si parte Che bello Bravi State cominciando a prendere il ritmo Ora accelero un po' Quanto è alto sto castello E dai Più veloce ancora immagino Ora Prossima fermata Ultimo piano Si prega di allacciarsi le cinture Un momento Non ci sono le cinture Ah ok Mi davo ora i punti Ma come C'è la spada Ora Exor è protetto Dagli occhi Ah Attacco gli occhi Prima allora Vabbè Mello Ciao eh Bello Mello Ah che cosa Fammi capire Chi ha visto niente Eh buonotte Inefficace Maledizione Oh È senza protezione Bene Ma come Quindi solo un occhio Basta colpire Ah ha preso male il tempo Allora L'occhio Era Resistente Anche lui Ok non male Anche la bocca è un attacco Cioè è un nemico da colpire Si però Allora Vai Dai Ma C'ho feca Eh niveore Immagino che faccia male No Ok Non male Non male Potrà Avvelenarsi Questo Sì Può avvelenarsi Può avvelenarsi Meglio Ah Eh ricarico i personaggi Perché serve Vai Ricaricato Ok ci siamo Eruzione solare Eruzione solare Oh Che male Vai Ma Exor Non è tipo Un dentifricio Una cosa del genere Mi pare Mi pare che era una marca Vista in televisione Che male Gabriele Eruzione solare No, Bowser, ti resto, tranquillo, ti resto Eh, devo restarlo per forza È un alliato molto importante Nice Ah, elettroscarica non funziona Però, chiaroveggenza, posso farla Efficace è niente 1093, ah, non manca molto Finché ho gli occhi aperti sono invincibile Ah, ora è riprotettato dagli occhi? Però questo attacca tutto, attacca Ah, bene, bene Il ruzzo di isolare è troppo forte, però Uffa Fa troppo male Bene Oh, ok Amico mio però Tu tiri le piante, eh Lasciatelo dire Lo tiri proprio, lo tiri Per fortuna posso restare anche con Peach Però devo ricaricarmi i punti Per poterlo fare Eh, Mello, mi dispiace Ah, accidenti Restiamo Mello Tutto un restamento qua, eh Di continuo Regalino, va bene Eh, pioggia di PV su Bowser Perché serve Vediamo un po' quanto recupera Oh, quasi tutto Eh, attacchiamo Exor ancora Eh, però Quando fa questi qua che non si può difendere Eh Che bisogna fa? Anche la bocca è andata Beh, attaccando tutto più volte È utile, sì Ok Ehm Vorrei provare una cosa Bomba di fuoco Buono Efficace fuoco Ok Ok E il ghiaccio invece Vediamo un po' Ok anche Meno del fuoco però E Ma bomba a favento no Favente nemici Caramella roccia Vediamo un po' quanti danni facciamo 200 Buono Oh Che è quello Ah, è finita Ah Ok Bene Ah, 22 con Mario Vai, punti salute Sì No Io Ya Ciao 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 Add��